Gustavo Adolfo Roll ha avuto il compito di portare in evidenza che la realtà spirituale è la vera realtà e la realtà materiale non è nient'altro che una conseguenza di quella spirituale ed è influenzata e coordinata e governata la realtà materiale dalla realtà spirituale e ha avuto il compito di portare questa coscienza in un ambiente di alta o altissima borghesia anche di nobiltà di nobiltà italiana soprattutto del novecento e per scuotere quelle coscienze Gustavo Adolfo Roll ha fatto anche tanto bene tanto del bene tanto a tante persone quindi lo salutiamo a Gustavo Adolfo Roll e sicuramente i suoi poteri gli erano stati dati da personaggi superiori perché lui prima agli inizi incontra un personaggio particolare che lui lo definisce il polacco questo polacco non si è capito bene chi è questo qua poi incontra un altro personaggio insomma probabilmente questi poteri gli sono stati dati lui ha superato dei test dei test che gli esseri superiori sanno fare e sanno proporre alle anime questi test e lui li ha superati e quindi gli è stato dato magari li ha superati anche inconsapevolmente ha vissuto questi test inconsapevolmente spesso accade questo e in queste circostanze e poi si è attivato gli hanno attivato ma lì praticamente è così questi esseri ti attivano in maniera superiore rispetto alla media ti attivano la ghiandola pineale e la pituitaria perché la produzione ormonale di queste ghiandole provoca un'amplificazione delle capacità percettive che sfocia anche nell'ambito sottile quindi astrale spirituale e anche quindi non soltanto la percezione ma anche l'interazione con il reame astrale spirituale che sono i reami che governano la materia e quindi vedi che lui riusciva a comunicare con l'aldilà riusciva a dare degli apporti addirittura fisici alla materializzazione ha dimostrato che la materia è soggetta alle leggi spirituali lui diceva tutto è spirito tutto è spirito anche la materia è spirito quindi grande gustavo roll ettore majorana in questo momento che si sappia sta collaborando quindi non è assolutamente deceduto sta collaborando con gli esseri che vivono nella terra interna per la preparazione della edificazione della nuova società e vi consiglio di dare un'occhiata agli studi e alla divulgazione di pellizza che parlano appunto della macchina di majorana tra l'altro so che ci sarà una conferenza tra qualche tempo è già pronta diciamo la possibilità di prenotarsi andatevela a cercare in google dove si parlerà di questa macchina la macchina di majorana andatevi a vedere la macchina di majorana in grado di modificare la materia in grado di trasformare dei cubi di gomma piuma in cubi di oro massiccio di alta caratura in grado di annientare completamente ad esempio i residui nocivi l'immondizia non avremo più problemi di immondizia di come dover smaltire l'immondizia perché la macchina di majorana è in grado di disintegrarla di riportare la materia agli atomi puri agli atomi liberi quindi senza inquinanti e andatevi a cercare questo sicuramente ettore majorana è un altro che ha dimostrato di essere positivo perché nel periodo in cui stavano studiando la bomba atomica con fermi e con gli altri ragazzi di via panisperna praticamente majorana si è rifiutato ed era il più geniale lui lui pensate era un gran fumatore appuntava sui pacchetti di sigarette appuntava le sue formule che gli venivano come dei lampi di genio poi magari le ci ripensava e quando gettava il pacchetto di sigarette c'era fermi e gli altri che andavano a rovistare nell'immondizia per cercare i pacchetti di sigarette di majorana per rubare i suoi appunti quindi majorana era il vero genio invece fermi e gli altri che erano comunque personaggi ragazzi abbastanza cioè molto diciamo molto esperti nel loro campo e anche per certi versi geniali sicuramente talentuosi sono diventati a mio avviso dei dei criminali assassini perché loro sapevano cosa stavano facendo sapevano che le loro ricerche li avrebbero portati alla realizzazione di un'arma potentissima e distruttiva quindi sono criminali e assassini fermi e i suoi amici di via panisperna perché che ne dicano che che ne dica la nostra opinione pubblica l'opinione comune che abbiamo di questi personaggi sono criminali e assassini perché erano consapevoli di quello che facevano altro che e ettore majorana invece che cosa ha fatto quando ha capito che la storia andava a finire a quel modo cioè che stavano studiando qualcosa che sarebbe stato utilizzato a fini bellici che cosa ha fatto majorana se l'è squagliata se n'è andato e dal gruppo ed è stato preso dagli extraterrestri ci sono delle lettere ci sono delle cose che fanno capire in maniera sibillina comunque è stato è stato preso e questo è confermato da ad esempio eugenio siragusa è stato preso dagli extraterrestri è stato portato nella terra interna nelle loro basi e nella terra interna dove collabora con altri scienziati scomparsi misteriosamente dal pianeta terra di cui non si è mai più trovato traccia e con altri scienziati extraterrestri provenienti da altri pianeti che vivono e convivono all'interno del pianeta terra nella terra interna precisamente nel continente chiamato eldorado dove stanno preparando le strutture sociali che emergeranno che verranno instaurate nella nuova società che verrà ereditata da coloro che amano il prossimo come se stessi questo sta facendo majorana insieme ad altri e eugenio siragusa so che lo vide addirittura lo incontrò quindi sì sono spiriti alieni risvegliati spiriti alieni non significa nulla perché siamo tutti solari come spiriti gli spiriti vengono emanati dagli astri dai soli quindi gli archetipi creanti i padri che creano gli spiriti sono i soli quindi noi siamo tutti esseri solari non siamo nessuno è terrestre il corpo è terrestre è una parte dell'animismo dell'anima è terrestre ma ma la noi il nostro la la nostra intelligenza siamo tutti solari la nostra intelligenza è di avere una parte di un'animismo dell'anima è di avere una parte di un'animismo dell'anima è di avere un'animismo né Grazie.